non mi ricordo ma doveva essere Hitchcock quando gli chiesero cos'è essenziale la risposta fu la storia la storia la storia vero è però che le storie le fanno i personaggi e di tutti i libri degli ultimi anni è questo che si vede personaggi che hanno identità precisa o strana o bizzarra o interessante parliamo di Sally Rooney parliamo del mio anno di riposo e oblio parliamo di Lirono Olyphant sono personaggi che le storie se le puscono addosso da sé cominceremo da qui il personaggio e quello che gli succede lo vedremo dopo voglio che sia qualcuno di ben identificato qualcuno che sia immedesimabile non mi interessa che sia uguale a chi lo sta scrivendo è un personaggio qualcosa che esca fuori dalla pagina ecco questo forse lo scopo del corso disegnarlo bene fare in modo che non resti soltanto fermo tra le righe voglio vederlo insomma deve deve prendere lentamente più dimensioni alla fine avremo l'inizio di qualcosa o se siamo stati molto bravi avremo un intero che poi potrà essere rivisto riguardato risistemato e messo in forma di romanzo sono Esther Viola e vi aspetto al nuovo corso online la scuola Holden il nuovo grande romanzo